È fantastico, hanno portato tutto ciò che abbiamo chiesto sui tre, abbiamo avuto l'injectione, abbiamo avuto il snow man-made, è stato fantastico, e le viste, quando si arriva al top, o anche in città, è incredibile, e l'Italia è sempre benvenuta a noi con le braccia aperte, e è bello avere un'altra casa da casa. Giù in paese, è stato veramente bellissimo, inoltre troviamo che l'Italia sia un posto fantastico in quanto a ospitalità, e ci siamo trovati veramente benissimo. Ho tornato i miei piedi l'anno scorso, quindi è una season di comeback, ma ho avuto l'11, l'9 e l'5, quindi è abbastanza buono, sto facendo bene, e ho guardato a Bormio, che è venuto. Mi sento che sono in buona forma, e questo mi ha aiutato a raggiungere ancora più confidenza. L'anno scorso si è fatto male ad un ginocchio, però finora sta andando bene, infatti ho avuto un nono, un undicesimo, un quindicesimo posto, e quindi speriamo che adesso, con la gara di Bormio, vada sempre meglio. Si sente in gran forma per questa stagione. Sì, è un bellissimo posto, ho venuto qui per una femmina rata quando ero un figlio, un'altra volta, e questa è la mia seconda volta per tornare, ora, e è davvero bello arrivare a un'altra parte, e è davvero bello, e non c'è molta gente, è davvero buono per noi, e si concentrano sui nostri treningi, e per ottenere alcune qualità di treningi, tra le grandi raccorte World Cup. Quindi sì, è un bellissimo posto, e tutti sono molto amici e buoni, e la la cena è meraviglia, e ha fatto bene ancora. Sì, non abbiamo molto tempo durante la settimana per allenarci, quindi è davvero valutabile arrivare quando abbiamo un pochino e ottenere un buon allenamento. A volte andiamo e le condizioni non sono buone e è un pochino di tempo, ma qui è perfetto, abbiamo avuto buona nuova, e sicuramente aiutare. Il nostro prossimo stop è Bormio, e poi abbiamo un pochino, andiamo a casa per un pochino, e poi le grandi raci di Wengen, Kitzbühel, Garmersparte, Kirken, e poi le World Championships in Are, in Sweden. Quindi, sì, è davvero bello avere un pochino di giorni di allenamento, e rinforzare su come schiarare rapido. Dopo le prime tre raci di Wengen, abbiamo un pochino, e poi andiamo a Bormio dopo Christmas. e poi avranno un piccolo break natalizio a casa, per poi tornare, dopo le festività, e affrontare le gare più importanti, come quella di Kitzbühel, Garmisch e Wengen. E quindi sono pronti e pensano che un posto come questo, con queste condizioni, possa sicuramente favoreggiare il loro allenamento della stagione. Sì, abbiamo avuto un buon tempo qui, le ultime 4 giorni. Abbiamo riuscato, non avevo mai visto, non avevo mai visto, altri ragazzi non avevano mai visto qui per un tempo, e è stato incredibile. Abbiamo avuto un buon traininge, e abbiamo due diverse venues che possiamo trainare in, che è enorme per noi, e un pochino difficile per noi, e un pochino difficile per testare, perché abbiamo un pochino breaki qui tra le World Cups, e è bello di poter lavorare su piccoli cose tecniche nel tuo ski, e poter perfettare tutto. Oltre a questo, la città è stata fantastica, e abbiamo avuto un buon tempo qui. Le piste sono in condizioni perfette, e veramente fantastiche per il loro allenamento. Hanno anche avuto lo spazio per concentrarsi su due percorsi diversi, che per loro è una cosa veramente fantastica. Ha potuto focalizzarsi più anche su parti tecniche, qui su queste piste di Folgaria. Inoltre, oltre a questo, il cibo è semplicemente fantastico, e la vista è stupenda. Io credo che, solo poter fare molte ruote qui, con le città limitate, e che ci sono stati fermati per noi, che è stato fantastico. E solo poter fare un passaggio, dopo la raccetta per tre settimane ora, e solo concentrarsi sui piccoli cose, la tecnica, essere clean sui skis, e il snow è stato perfetto, e è stato molto buono, per poter rinforzare cose in mio skis, e mi sento molto buono, per andare in le prossime World Cups in Bormia. Il fatto di avere una pista riservata solo per loro, senza avere troppa confusione intorno, ha fatto sì che si potesse veramente concentrare su quelli che sono gli aspetti più tecnici, soprattutto dopo tre weekend di gare, e di concentrarsi sulle piccole cose, quindi prendere un attimo più con calma, e veramente focalizzarsi su quello che sono le cose più tecniche dello ski. Michael Reck è il presidente APT Alpecimbra, lo scorso anno l'Insefone è partecipato al Dalila Almenti, poi è nata questa partnership con la nazionale statunitense, davvero entusiasmante come proposta e progetto. Ma è un'avventura che è partita alcuni anni fa col trofeo Topolino, cioè io riconosco nel trofeo Topolino il punto di partenza di questa storia, e di questa caratteristica della schiare Alpecimbra, di essere il luogo ideale per gli allenamenti e per il grande sport, sia giovanile che degli altissimi livelli di Coppa del Mondo. Coppa Europa nel 2016, poi di nuovo nel 2017, e appunto questi allenamenti prima dell'Austria, poi di l'Insefone, poi ancora di Ted Ligeti, e quest'anno secondo me il coronamento di un impegno nostro della Società degli Impianti nel contratto quadriennale con lo Ski Team US, che veramente rappresenta un sogno anche per me, devo dire personalmente, ma per la località, è una grande occasione di promozione. Il testimone è che le piste sono di alto livello, soprattutto. Sappiamo tutti che la caratteristica dell'Alpecimbra non è l'altitudine, non è la lunghezza delle piste, ma sicuramente una capacità nella preparazione della neve, quindi la neve tecnica, neve artificiale, e nella preparazione delle piste. Le squadre sanno, quando scelgono l'Alpecimbra, di trovare condizioni ottime, e una capacità da parte dello Ski Team Altipiani di preparare, quindi di bagnare la pista, di barrarla al migliore dei modi, e quindi condizioni pari alla Coppa del Mondo. Tante nazionali che si allenano, ma anche un ricco programma di eventi, si chiude in bellezza quest'anno? Assolutamente sì, trofeo Alpecimbra, ex trofeo a Topolino, e poi finali di Coppa Europa femminile, discipline tecniche. Anche lì un riconoscimento da parte della FIS, di questa capacità nostra. Abbiamo ospitato due edizioni maschili di Coppa Europa, e quindi ci hanno segnato le finali. Grande soddisfazione nostra e di tutte le persone che lavorano sugli impianti a fune. Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing, una nuova partnership con le nazionali statunitense. Trentino sempre sensibile ai ritiri delle nazionali, non solo di sci, ma anche di altri sport? No, sensibili, orgogliosi, molto contenti di aver ripreso un rapporto davvero molto importante con la nazionale americana. Il rapporto non si era mai interrotto. Avevamo davvero costruito una partice di ben cinque anni a Andalo, in Paganella. La nazionale americana era rimasta molto molto contenta, poi per ragioni di altro tipo si erano dovuti spostare in un'altra zona, ed oggi grazie a un grande impegno dell'APT di Folgaria, dell'APT Alpecimbra con il suo presidente, con il suo direttore, abbiamo riallacciato un rapporto al punto da costruire una partice per i prossimi quattro anni e questa sarà la sede europea della nazionale americana. Quindi durante le gare, tra una gara e l'altra, verranno qui ad affinare la preparazione sia per la velocità che anche per le discipline più tecniche. Gli allenatori sono molto molto contenti, hanno trovato un contesto davvero splendido sia dal punto di vista tecnico che dell'ospitalità. Noi come Trentino non possiamo che affiancare queste operazioni e irrobustirle anche con tante attività di comunicazione insieme con l'ufficio stampa della nazionale americana sia per quanto riguarda i media italiani e europei ma anche oltreoceano. Grazie. 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 Grazie.